La funzione tangente di x è un po' diversa rispetto alle funzioni coseno di x e seno di x. Qui ho già inserito la formula che prendi sempre dalla categoria matematiche e trigonometriche. Come al solito devi mettere nell'argomento il numero radiante. Cosa possiamo dire osservando il grafico? Beh, che ha un periodo di larghezza pi greco. Prendiamo per esempio quello che va da meno mezzi pi greco a più mezzi pi greco. E possiamo vedere che la funzione passa per l'origine 0,0 e che più mi avvicino agli estremi di questo intervallo e più la funzione tende all'infinito. Più precisamente da questa parte a più infinito e da questa parte a meno infinito. Ecco, la funzione viene replicata sempre di 2 pi greco alla volta per i multipli di pi greco mezzi. Quindi per x uguale a 3 pi greco mezzi o x uguale a meno pi greco mezzi o x uguale a meno 3 pi greco mezzi la funzione tenderà ad avvicinarsi a questi che sono assintoti verticali cioè quelle rette a cui la funzione si avvicina ma non li tocca mai.